Buongiorno e benvenuti da Borsari Strumenti Musicali. Oggi vi presentiamo questa occasione veramente molto interessante e bella. Si tratta di un flauto mateki giapponese artigianale con argento molto puro, quindi è un 943, fori aperti, sol fuori, misnodato, discendente al sì. Come vedete le condizioni dei tamponi sono praticamente perfette. È uno strumento del 2015, fine 2015, quindi uno strumento assolutamente molto recente. Meccanicamente è veramente fantastica, un'ottima meccanica, strumento artigianale con una bellissima testata e un'ottima proiezione di suono. Quindi vi faccio sentire un pochettino il suono e poi vi invito chiaramente in negozio per venirlo a provare. Ne vale sicuramente la pena perché il prezzo a cui lo stiamo proponendo è veramente molto accattivante. risponde molto bene nelle note basse. medie e acute. Lo strumento è veramente molto equilibrato, omogeneo in tutta l'estensione, una testata molto pronta e facile, corposa, ricca, bellissimo suono e bellissima proiezione. Vi invito pertanto nuovamente in negozio ad abborsare strumenti musicali, il rotondatore a Bologna per venire a provare questo gioiello. È chiaramente dotato di una bellissima custodia rigida e la sua bacchetta per la pulizia. Ciao e a presto.